A proda in banca la lotta alla corruzione, priorità dichiarata del terzo mandato di Vladimir Putin, telecamere in azione, le forze speciali russe hanno fatto irruzione alla Rosbank, controllata dal gruppo Societe Generale per arrestarne l'amministratore delegato. Vladimir Golubkov avrebbe percepito compensi monetari illeciti per l'equivalente di 123.000 euro e sollecitato una mazzetta da quasi 1.200.000 euro per favorire il prestito di un imprenditore. Implicata anche la vicepresidente, che colta in flagrante, ha collaborato con la polizia consegnando i soldi al complice che è così finito in manette. No comment sulla vicenda da parte della Rosbank, una delle prime dieci banche del paese, la nona per attivi.